Eccoci Rick ci siamo Dove? Su candid camera Noi c'è scritto Lì sorridi Vedi che stai Bravo che sorridi Sono contento Visto ho fatto scuole alte Non so leggere Chi è il disturbatore? Questo è quello da Charlie Chaplin E sono io Sei tu Riccardo Questo qua Cosa fa? Ma vuole accendere la sigaretta? No Passo No ma lo scherzo più Ma chi ha impusato sto scherzo qua? La futurista Si incazza Si incazza Con quel cappello lì E questo qua? Guarda così Ma quanto è simpatico Oh le finte che neanche ero figlio Oh questo secondo me Questo lo Guarda Questa c'è un incazza Quella dietro lì della fetenza Che fetenza Guardalo Kung Fu Panda Spacca tutto Stavo studiando Una mossa Questo è un genio Questo è un genio Guardatelo Un occhiale portentoso Eccolo La ricorsa E il più vecchio scherzo del mondo Apre la porta Riccardo sei intelligente Hai visto Ah questo qua C'è un uomo Un PR Ha un pantalone incredibile Ecco non sapevamo È figlio del rettore Adesso vedrai Se non passi più un esame Ci saluta Ciao Ciao caro Eccolo Ciro Ciro Non me la vuole più dare Vabbè Tentela Ci provo con le tipe Allora questo qua è triste Però farla ai non vedenti Guarda la maglietta che si è messo E gli occhiali scuri Secondo me Però se butti via la sigaretta Io ti odio Oh la pestata E faceva parte dello scherzo Quello lì Ma perché ha un palloncino in mano Che non ho capito E adesso cosa fai Adesso Ti spacco la testa Lui non ha capito Anzi qui sta stra simpatico E dice Oh ma quanto è bello Quanto è forte Ma dai che sono anche cieco Non mi ferire però Così in mezzo E' un passo di danza Cosa sto facendo Salsa Ma perché Ah però con le donne Ah però con le Guarda che tristezza Che tristezza No mi rompe i coglioni Free hugs Cosa vuol dire Vabbè Così abbraccia le donne Ma perché si abbraccia le donne Abbraccia un uomo Abbraccia il caso umano Vabbè E qua abbraccia Questo dice E lui gli sta piacendo Muzzi bruto di un terremotato Allora qua deve essere Rimasto incastrato Nella lingua Il piercing No la patta Qua è lì che nasa È lì che nasa Ma cosa abbraccia Fammi anusare Fammi anusare Infasi Infasi l'intimo Se ci sono delle perdite urinarie Delle piccole perdite urinarie Anche io vorrei anusare Dice Questi qua si stanno già fumando La sigaretta dopo Cioè del dopo Si stanno già fumando La sigaretta Sono tutte comparse Chiaramente Ma questa qua Non ho capito Ma è una che di camera È un porno Quando è che si spoglie Tira tutto Però sono sempre delle donne E poi ha scelto anche La più carina Abbracciati lo Yeti Si uome Abbracciati lo Yeti Avrei da ridire Finiscono i momenti Di larità con Ilaria Riccardo E Edoardo E chi la fa? La spinga Ma no Edoardo 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 Edoardo